un posto diverso sto andando in un posto dove non mi serve la valigia non mi serve il passaporto non mi servono i soldi non mi servono la vista l'udito il tatto è un posto che non esiste nelle carte geografiche anche se tutti ci sono stati almeno una volta sto andando in un posto sorprendente è imprevedibile che sfugge alle leggi della fisica non mi serve il treno né l'aereo sto andando nel mondo dei sogni ci troveremo lì se vorrai seduti su un prato verde all'ombra di un ciliegio vita minimalista poche cose hanno importanza nella vita guardarsi ascoltarsi fare l'amore cantare suonare ballare ridere giocare e sognare leggere scrivere raccontare accarezzare gatti dormire e mangiare le fate dell'oblio nei boschi più fitti oscuri dove la presenza umana non è mai giunta tra le radici degli alberi secolari vivono le fate dell'oblio sono creature dai corpi effimeri quasi invisibili in grado di passare attraverso gli oggetti come fantasmi tra i muri nessuno le ha mai viste possono manifestarsi solo attraverso la loro voce sussurrante quando una fata dell'oblio decide di prendersi cura di un uomo si apposta sulla sua spalla destra e gli suggerisce ciò che per lui è meglio dimenticare il modo in cui avviene questo fenomeno è talmente perfetto che spesso passa del tutto inosservato quasi mai ci accorgiamo di aver scelto di dimenticare qualcosa ogni informazione dimenticata è frutto di una scelta la scelta di seguire il consiglio della nostra fata dell'oblio una volta presa la decisione la nostra piccola protettrice invisibile raccoglie il ricordo dimenticato e lo custodisce nella sua borsa di tela di ragno avete notato che ci sono ragnatele dappertutto ovunque si trovino gli esseri umani non sono altro che le borse e gli archivi delle fate dell'oblio colmi dei nostri più grandi segreti quando vorrete recuperare i vostri ricordi vi basterà chiederle alla vostra fata che vi riporterà la memoria così come le avete lasciati ma se dimenticate di aver dimenticato quel ricordo scomparirà per sempre e non sarete più in grado di riaverlo indietro in alcun modo i più sfortunati che non hanno la protezione di una fata dell'oblio sono condannati a ricordare ogni singolo avvenimento della loro vita compresi più terribili sulla terra ci sono molte meno fate che umani quindi diverse persone restano sprovviste del loro insostituibile aiuto i più fortunati hanno la protezione di più di una fata dell'oblio soprattutto se hanno fama di essere vecchietti simpatici e giocondi allora potrebbero indugiare più di quanto sia prudente nei giochi con le fate fino a scordare informazioni fondamentali per la propria sopravvivenza se vi accorgete di avere una fatina che vi protegge dagli scherzi della mente o dalla crudeltà di questo mondo prendetevi il tempo per ringraziarla e fermatevi un attimo prima di dimenticare le cose potreste accorgervi troppo tardi della loro importanza il triangolo lei era così bella e sensuale alla luce del mattino che le sfiorava i fianchi parzialmente coperti dal lenzuolo lui si alzò silenziosamente dal letto per non svegliarla e raggiunse il portone lasciandosi quella dolce visione alle spalle l'altro era il classico bravo ragazzo quello che c'è sempre quando sei in difficoltà quello che ti apre la portiera della macchina quello che ti chiede il permesso prima di baciarti era carino però nella sua goffaggine di uomo e lei non sapeva decidersi sensorialità foglie che ondeggiano placide aria densa di pollini mattoni grigio fumo ali di libellula murale sa sfondo vagamente sessuale capelli biondi di donna lampadina di lampione calma sottile ma spessa abbastanza da tagliarla a fette grida di clacson nel traffico in lontananza campana di chiesa intreccio di radici d'albero rovidità i soldi non contano nell'idillio delle percezioni prato raso e folto cinguettì sentore di quotidianità dall'altra parte della strada un fiume immaginario col suo canneto sulla sponda profumo di resine ignote bambini maratoneti bambini astronauti bambini dottori scivoli di caramelle pelo di gatto tigrato morbidità tutto si mescolava nella trama della realtà forse concreta forse di sogno davanti ai mille sensi acuti di aurora il pozzo dei desideri sedeva le gambe penzoloni lo sguardo perso nel vuoto le orecchie tese a decifrare i rumori del bosco notturno lo svolazzare dei pipistrelli lo scrosciare di ruscelletti il frusciare del vento tra le chiome degli alberi e come con lo sguardo poteva carezzare quelle foglie con la stessa facilità avrebbe voluto intrecciare le dita tra i suoi capelli di velluto il pozzo sotto di lui percepì il suo desiderio le acque vibrarono un folletto si svegliò e qualcosa accadde due anni dopo sedeva le gambe penzoloni lo sguardo perso nel vuoto qualche pelo grigio in più tra la sua barba tendeva le orecchie ai rumori del bosco ignaro del ribollire delle acque sotto di lui il pozzo meditabondo tirava le somme del suo magico intervento come in un fumetto una nuvoletta di pensieri si addensò sulla testa dell'uomo se solo l'avessi lasciato andare il giorno stesso in cui le ho conosciuta quante sofferenze mi sarei risparmiato contemplazione il vapore si innalzava serpeggiando dalla superficie dell'acqua sanguigna dora fissava l'immenso mentre roberto nel suo ventre dormiva nubi di porpora si addensavano all'orizzonte un sole tiepido di tuorlo d'uovo si scioglieva sulle curve delle colline l'area di nebbia proteggeva lo sguardo dalla vista diretta delle cose roberto si svegliò e tirò un calcio a sua madre per scuotera dal torpore contemplativo dora ritornò alla realtà la tisana calda e frutti di bosco era ancora fumante nella tazza il ballo un ballo lento pigramente sensuale sonia danzava contenuta coccolata ospitata nell'abbraccio morbido di suo marito come su una maca in un giardino di smeraldo il suo unico compito era quello di lasciarsi andare all'ascolto permettergli di guidarla in un istante eterno dispensi e ratezza ad un tratto 84 occhi si rivolsero contemporaneamente verso la suntuosa scalinata che conduceva al piano di sopra una donna amantata di diamanti sul nero velluto scendeva solennemente i gradini sostenendo un complesso chignon sulla nuca fiera sonia sperimentò una fitta di ramarico quando anche il suo ballerino rivolse lo sguardo in direzione della dama indiamantata che incedeva incurante tra la folla la donna aspettò la proposta di un cavaliere abbastanza audace accettò con garbo e finalmente si abbandonò alla musica quasi scordandosi di dover conservare l'immagine raggiungibile che voleva dare di sé il tempo di uno due waltzer e due scomparvero pur essendo fisicamente presenti dall'attenzione distratta degli invitati sonia si concesse di rilassarsi suo marito stava di nuovo pensando ai passi di danza il pericolo era scampato intuizione intuizione parlavano tanto di intuizione di creatività di stato di flow ma io mi occupavo di calcestruzzo e impianti elettrici le uniche cose importanti nella mia vita erano la birra e la figa poi ho conosciuto elisabetta avete presente quelle fricchettoni new age che vanno in giro con la tunica e le ciabatte di sughero mi ha portato con lei ad un corso di disegno pieno di altri fricchettoni attrezzati di vernici e pennelli di ogni genere l'unica cosa che sapevo disegnare era lo schema di un impianto elettrico ma accettai lo stesso per farla contenta quel giorno parlavamo parlavano di intuizione di come secondo loro fosse possibile accedere a certi stati di coscienza mediante la pittura li lasciavo discutere mentre armeggiavo con i colori sentendomi impacciato e fuori luogo elisabetta mi incoraggiò a proseguire mentre ultimavano sua natura morta iniziai a tracciare lunghi solchi arancioni sulla tela lasciavo che la mano si muovesse a caso senza darle un ordine preciso tanto avrei fatto comunque un disastro aggiunsi dei cerchi azzurri sparsi un sole e un albero poi accadde un interruttore si accese nella mia testa illuminando sconfinate zone buie che mi erano del tutto ignote capì cosa fosse la creatività capì lo stato di flow capì l'intuizione di cui parlavano i fricchettoni capì che non avrei più potuto fare l'elettricista impressioni ci sono immagini che rimangono impresse nella memoria come quel barbone coricato su materasso sistemato sapientemente tra il marciapiede e la tettoia di un palazzo in centro dava le spalle alla folla e russava rumorosamente esalando un sentore di cantina muffita accanto a lui anche il suo cane sonnecchiava il pelo sporco e un'espressione di profonda beatitudine tra le pieghe del muso dall'altra parte del letto era sistemata una chitarra a guardarla bene anche lei puzzava di guasto dormiva di sbieco e rideva sotto i baffi raccontami raccontami di quando eri piccolo di come la tua mamma ti teneva tra le braccia accarezzandoti quel ciuffo di capelli inesistenti di quante volte tuo fratello ti rubava il trenino per giocarci da solo lasciandoti seduto a piangere nel tuo angolino di come il gatto veniva a consolarti strusciandosi sulle tue gambe paffute facendole fusa per placare le tue lacrime raccontami il tuo primo bacio sulla spiaggia al chiaro di luna con l'amore della tua vita che poi diventò semplicemente l'amore di quell'estate che poi ancora diventò quella troia di Jessica che sarà fatta a tutti i ragazzi del campeggio lasciando te per ultimo pieno di desiderio insoddisfatto nel chiarore della fermata dell'autobus svietata ai minori raccontami di te e di tuoi sbagli della donna che per te decise di abortire del figlio che arrivò tre anni più tardi dei suoi compleanni mancati dell'amante al posto degli straordinari in ufficio della bottiglia di vino sotto il divano raccontami di quel momento in cui hai invertito la rotta che ormai non avevi più niente da perdere che la vita ti scivolava dalle mani che non c'era più nulla da fare dimmi di come ti sei rialzato zoppicante sul ciglio del mondo del coraggio e della forza che hai trovato in fondo al cuore raccontami di te uomo di quando scheggiavi pietre per uccidere i mammiferi di quando bruciavi i tuoi simili sul rogo di quando inventavi la lampadina raccontami del buio dei tuoi secoli delle tue guerre inutili dell'ansia di produrre per non piangere raccontami di come risorgerai ancora dalle tue ceneri bellissimo errore di fabbrica di un creatore inconnoscibile da questi per sempre destinato a distruggersi e rinascere nel ciclo infinito della vita cuore spezzato che ne sapete voi dell'amore che ne sapete di come si irradia nelle vene di come risveglia i desideri sopiti di come guarisce l'anima avete mai amato tanto da farvi male tanto da dimenticarvi chi siete da dove venite e dove andate se mai l'abbiate saputo conoscete forse l'ebbrezza di uno sguardo che si accende tra la folla alla vista del vostro disguardo calamitandovi irresistibilmente verso di esso avete mai seguito quell'impulso che tanto vi terrorizza quella voglia di cedere abbandonarvi a una forza più grande quella spinta sull'orlo dell'abisso io l'ho fatto ho saltato dal burrone ho aperto le ali ho sorvolato i campi e le città ho dato tutto me stesso senza aspettarmi niente in cambio ho vissuto il brivido divino ora innaffio orchidee nel giardino della villa di un noto gentiluomo i fiori senza dubbio danno molta più soddisfazione degli esseri umani poesia di ghiaccio i cristalli rilucevano animandosi di vita propria sul manto bianco del prato giada correva perdifiato verso il lago per arrivare prima degli altri bambini un'aquila pattugliava dall'alto le strade accertandosi che tutto fosse in ordine giada si fermò d'improvviso igor era già sulla sponda ad aspettarla una palla di neve come freccia di cupido volò dalla mano di lui spiaccicandosi sulla faccia di lei la dichiarazione d'amore era compiuta in cantina nella vecchia cantina di nonno ci sono fucili da caccia in pensione dizionari di epoche lontane fotografie mangiucchiate ingiallite ombre che passeggiano sotto gli scaffali lasciando intravedere di tanto in tanto una coda rosa spiriti di muffa e licheni una quantità di stufette rotte e ventilatori depressi una tavola da surf anticalie di varia natura una clessidra di mezzo metro una collana di denti di squalo una scopa con setole effimere un aspirapolvere senza il tubo un camice da laboratorio con macchie di sostanze impronunciabili la cuccia del cane che è morto dieci anni fa uno specchio rotto e uno integro ma talmente sporco che la polvere sulla sua superficie si effusa con le macchie d'umidità una bambola di porcellane imperenne attesa di una bambina che voglia pettinarla quattro damigiane vuote odorose di residui di vino inacidito e una chiappa sogni tintinnante nella cantina di mio nonno ogni notte gli oggetti parlano tra di loro si raccontano le loro vite piazzano scommesse sulla loro sorte la scopa con le setole effimere è la prima candidata alla presidenza della spazzatura ma soprattutto si chiedono che senso abbia tutto questo per quale motivo si sono ritrovati in quel posto stretto e puzzolente perché gli umani li hanno lasciati lì indimenticandosi di loro e perché 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 la porta è sempre chiusa chiave ipocrisia consapevole marco sa che le chiacchiere di marisa servono solo per dare aria alla bocca ma resta comunque a sentirla o meglio a guardarla lui sa che lei sa che lui sta ascoltando soltanto il rumore del sangue che gli scorre sempre più velocemente nelle vene senza badare granché ai suoni che provengono dalle sue labbra marisa sa che a marco non importa un fico secco dei suoi discorsi di frida calo e dell'aumento del prezzo delle zucchine ma parla lo stesso un po' perché si sente in dovere di intrattenerlo un po' per l'imbarazzo di sostenere il suo sguardo senza la barriera di una banale conversazione che faccia da cuscinetto protettivo lei sa che lui sa che lei sta arrossendo sempre di più nello sforzo vanno di formulare frasi interessanti che appaiano anche solo vagamente appropriate al contesto sia marco che marisa vorrebbero semplicemente sfiorarsi abbracciarsi baciarsi ad occhi chiusi penetrarsi l'un l'altra nella totale nudità del corpo e dello spirito ma il barista sta già riempendo il secondo bicchiere mentre le parole volano e si addensano confuse e inutili sulle loro teste la danzatrice un uragano di bellezza in grado di spazzare via tutto il male del mondo quando la vidi sulla sponda del fiume danzava per sé stessa con un velo tra le mani vestiva di bianco con un fiore che ondeggiava tra i capelli mentre il vento tramutava in farfalla la sua dolce figura di donna se le cose fossero diverse se il cielo fosse verde anziché blu i giardinieri imparerebbero a volare se la masticazione del cibo non producesse rumori ci sarebbe ugualmente la stessa soddisfazione se il cervello avesse un tasto di accensione e un processore andrebbe in crash come un computer a volte mi assalgono strani dubbi quanto dura un pensiero che sensazione proverebbe uno squalo se potesse arrampicarsi sulle pareti rocciose cosa dice il croissant e la ciambella nel reparto dolci di un bar le formiche ci imitano o si prendono gioco di noi se la luce fosse nera e il buio fosse bianco sapremo ancora distinguere tra pasta la carbonara e pasta al pesto ma quello che mi fa più paura se gli starnuti parlassero quante parolacce direbbero lui aveva lunghi capelli castani sciolti sulle spalle possenti la sua pelle d'ambra profumava di spezzi orientali lo sguardo azzurro poteva trafiggerti e regalarti allo stesso tempo la beatitudine divina dalle labbra morbide carnose uscivano poche parole lui parlava con il corpo ti seduceva con la sua sola presenza attraverso l'aula di passione che emanava lo conobbi su una pista da ballo fuori città sorridendo di sicurezza in se stesso mi tese la mano mentre sedevo al mio tavolo non ricambiai il sorriso ma feci un gesto teatrale di vittoria in direzione della mia amica in silenzio mi condusse al centro dello spazio in bella mostra davanti agli occhi pettegoli dei presenti prima che tutte le altre coppie riempissero il locale per ballare la canzone che stava iniziando mi offrì il suo abbraccio lasciando che io mi ci accomodassi a quel punto chiudemmo gli occhi e iniziammo ad oscillare sulla melodia della chitarra rimanemmo così per un tempo infinito perché infinite erano le sensazioni che derivavano da quel contatto poi partirono le percussioni e prima che me ne rendessi conto lui si scostò appena per guidarmi nella prima figura per tutta la durata della danza mi dedicò la sua massima attenzione il suo sguardo fiammeggiante le sue carezze calde finché la mia mano sinistra si spostò dalla sua spalla alla sua nuca avvolgendola di desiderio allora lui mi strinse più forte premendo le mani sui miei fianchi lo scambio di energie diventava sempre più intenso e non c'era modo né necessità di fermarlo il ritmo incalzante cresceva insieme all'eccitazione sensoriale ma tutto prima o poi finisce e finì anche la musica dissolvendosi nell'ultimo bollente abbraccio di lui mi riaccompagnò al tavolo salutandomi con un bacio sulla guancia e poi sparì nella folla così come era comparso lasciando solo il ricordo di una semplice esperienza che da sola ridicolizzava tutti i convegni d'amore passati non lo revidi mai più scrittore mancato c'era una volta un uomo che avrebbe voluto fare lo scrittore ma non era mai abbastanza soddisfatto dei suoi romanzi perciò non pubblicò neanche un libro e ad un certo punto morì fine ringraziamenti questo libro sarebbe ancora un'idea fluttuante nell'etere se non fosse per le persone che mi hanno incoraggiata nel darlo alla luce voglio ringraziare Gabriele e Maria Antonietta miei cari amici inseparabili compagni di scrittura creativa dal 2016 insieme a tutti gli altri che ci hanno fatto compagnia di volta in volta raffaella raffaella alessandro mattia nicola luigi ludovica filippo michele selene alessio luca laura francesca matteo giorgio ma la lista è ancora lunga e ormai si confonde nella memoria molti di questi racconti sono nati durante i nostri pomeriggi di sperimentazione letteraria davanti a una tisana calda nel salotto delle nostre case o nei parchi della città o durante un'escursione in mezzo ai boschi voglio ringraziare Matteo insostituibile personaggio poliedrico nel romanzo della mia vita per aver curato l'editing con infinita pazienza voglio ringraziare la bambina sognatrice che è in me che ha voluto credere in questo progetto fino in fondo mettendo a tacere quella vocina disfattista nella mia testa contagiandola con il suo folle entusiasmo se questo libro vi ha suscitato un sorriso una danza o una lacrima sentitevi liberi di raccontarmelo mi farebbe un immenso piacere se non apprezzate il mio modo di scrivere, di raccontare o di cucinare la carbonara sentitevi liberi di dirmi anche questo le critiche mi aiutano a crescere se volete segnalarmi errori di battitura o chiedermi consigli su come fare la carbonara fate come volete ma non riponete troppa fiducia nella mia arte culinaria se siete arrivati fin qui senza addormentarvi grazie di cuore mi ricorderò di voi quando preparerò la prossima carbonara nel frattempo riceverò i vostri messaggi a questo indirizzo lauralepori risponde chiocciolagmail.com che la scrittura creativa sia con voi ciao io invece sono Alessandro di Random Audiolibri e ti ringrazio di aver ascoltato sino a qua il finale di questo libro Minestrone di racconti di Laura Lepori una scrittrice emergente di Cagliari un'amica che conosco personalmente che ci ha alliettato questi otto nove appuntamenti non mi ricordo più nove nove appuntamenti io ti invito a condividere questo video con le persone che secondo te potrebbero apprezzare queste storie mettere un like se ti è piaciuto il video e iscriverti al canale se non l'hai ancora fatto che a me aiuta tantissimo se invece questo libro o questi racconti non ti sono piaciuti non cliccare niente magari scegli ne qualcun altro sempre dal mio canale quale racconto ti ha colpito di più oggi in questo episodio? scrivimi uno nei commenti oppure lasciami un emoji che corrisponde al racconto che ti ha colpito di più e sarò io a indovinare a quale racconto corrisponde la tua emoji io ti abbraccio tantissimo ti ringrazio di aver ascoltato fino a qua e ti do appuntamento al prossimo no edit che sarà chi lo sa chi lo sa chi vivrà vedrà